PES! Se non l'ho conosciuto, Paolo, mi hai detto. Ah beh... E io ho detto, si t'ho preso un tattolo, Esatto, preso della portata qua. Siccome veniva da un... Ragazzi, i tuoi di nati, mi parli a primavera. No, è venuto con una bottiglia di Tullivia, no? No. Eh, mi ti ho preso. No, no, no. E io ho detto, perché ti dovevo bere il 95. Ha fatto questo, si chiama qualcosa. Gli ho preso un po' solo, no? Un... 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 Un po' di nati. Ma l'ho preso veramente con una persona. E' un'altra persona. E' un'altra persona. In parte che... Che grazie che è! Che cazzo è un minuto! Che non è ci sono le altre cose! Ma ieri... E' un po' di nati. E' un po' di nati. E' un po' di nati. Infatti stasera dove ce l'ha essere? Paolo Fresco, da dopo noi il Dott. No! Poi che ha detto? Ciao! Ah, lo scudizio! Ah, è... Ah, è... Ah, è...